Dai primi risultati dell'autopsia, per le certezze, bisognerà attendere gli esiti degli esami istologici. Sulla donna deceduta in via Brudolini a Teramo lunedì pomeriggio, la 64enne Gabriella di Ottavio, si riscontrano segni di gravi traumi sulla testa e sull'addome compatibili con un investimento. Al momento quindi non è emerso nessun elemento che faccia ipotizzare un malore della donna prima dell'incidente. L'autopsia, disposta dalla sostituto procuratore Silvia Scamurra, è stata eseguita nel tardo pomeriggio di ieri dal medico legale Giuseppe Sciarra. Alcuni video delle telecamere di sicurezza della zona mostrano un pulmino da 19 posti subbalzare all'altezza della curva a gomito dove si trovava la donna che intorno alle 18.30 di lunedì stava rientrando nella sua abitazione che si trova un centinaio di metri più avanti. Il movimento del minibus sembra confermare la tesi dell'investimento. Da qui si esclude, come ipotizzato in un primo momento, che la donna sia stata investita dallo stesso pullman di linea da cui era scesa, colpita durante una manovra del mezzo nello slargo brecciato sul lato della curva. L'autista del pulmino, rintracciato dagli agenti della polizia stradale nel corso della notte successiva al ritrovamento del cadavere, ha dichiarato di non essersi accorto di nulla anche a causa dell'assenza di illuminazione in quel tratto di strada. I primi risultati dell'autopsia dunque sembrano escludere l'ipotesi che la donna, al momento dell'investimento, si trovasse già a terra sull'asfalto a causa di un malore. Per meglio accertare e ricostruire la dinamica dell'incidente, non escluso che la procura possa disporre una consulenza sul mezzo ora sequestrato. La tragedia ha fatto riesplodere le proteste dei residenti che da tempo chiedono l'illuminazione pubblica della zona densamente abitata e con una strada molto trafficata.